Sì, hanno espulso anche Coddo, non so che cosa ha capito l'arbitro, visto che lui non parla italiano, però gli è stato il cartellino rosso, quindi dopo il danno, dopo che ci ha massacrato in campo, ci ha massacrato anche alla fine partita. Una partita, l'abbiamo detto, è un K.O. immeritato. Al di là degli errori comunque ci sono stati a livello difensivo da una parte e dall'altra, va anche detto che però le scelte arbitrali, va detto, la Rezio è stato punito oltremmodo, un rigore che non c'era, un pallone che ha varcatto la linea di porta, un altro rigore sui cerci, sono stati assolutamente dimenticati. Ma guarda, ti dico, la prestazione c'è stata, i ragazzi hanno dato tutto oggi, non posso riparare a nulla, è normale che gli errori si fanno, durante una partita è impossibile che nessuno fa un errore, però purtroppo dopo 15 minuti il primo errore ci hanno punito, abbiamo avuto la forza di recuperarla, di andare in vantaggio, insomma abbiamo fatto tutto quello che c'era da fare, poi ci ha pensato l'arbitro, un rigore inesistente, un gol fantasma che solo loro non hanno visto, dei rigori per noi e anche le ammunizioni, le ammunizioni a noi subito, a loro niente, facevano sistematicamente fallo in ripartenza, ma i ammuniti, cioè è proprio vergognoso secondo me. Oggi devo dire che un arbitraggio è stato vergognoso. Come è nata l'idea, ieri aveva detto, vedo la squadra più fiduciosa con la difesa a tre, come è nata l'idea di tornare al 4-2-3-1? Perché era quello che ci aveva dato più opportunità per andare a fare gol. E poi in settimana avevo visto la squadra un po' non concentrata sul nuovo modulo, un modulo che se lo devi far bene, lo devi far concentrato, devi stare sul pezzo. Allora ho riportato la difesa a quattro, avendo anche con i centrali contati, ho visto che proprio per tenere almeno un cambio in difesa se succedeva qualcosa. Ma la squadra ha giocato, ha creato, oggi non possiamo di nulla. Secondo me se riportavamo il pareggio ci stava stretto, secondo me, per quello che si è visto in campo. Purtroppo arriviamo a casa a mani vuote. Ma guarda, questa è una mazzata importante, una grande mazzata, specialmente a livello fiscologico, perché noi siamo lì sotto, stiamo lottando settimana dopo settimana, abbiamo poco tempo per allenarci, insomma tante piccole cose. Però ogni volta, l'arbitraggio non è la prima volta che ci viene contro. Sono già diverse domeniche che noi subiamo, subiamo, subiamo e stiamo in silenzio. Non è possibile che gli arbitraggi hanno sempre le giornate stotte contro di noi. Non è possibile, secondo me. Io non voglio pensare a qualche cosa, però dopo una prestazione del genere, andare a casa a mani vuote, fa male, fa male tantissimo. E purtroppo fa tre giorni abbiamo un'altra partita ancora più importante di questa. Purtroppo oggi alla squadra non gli posso imporare nulla. Abbiamo avuto diverse palle goal con Cutolo, con Sussi, lo stesso Belloni, con Arini, il miracolo del portiere sul colpo di testa di Arini, dei falli importanti sui nostri calci d'angoli, non ci facevano mai partire. La maglia di Borghini era sempre tirata e noi al quarto uomo dicevamo guarda, guarda il capitano che sta facendo. Guarda che... Però non c'è stato verso. Cioè, abitaggio secondo me è stato a senso unico. E questo non è bello, non è sportivo. Anche perché stiamo lavorando tutti quanti e c'è gente che caccia i soldi per fare dei campionati e vogliamo rispetto. Oggi non c'è stato rispetto per l'Arezzo. E questo mi dispiace molto. Perché se una squadra è più forte e vince sul campo gli faccio i complimenti. Ma così non si può andare avanti. Grazie.